Benvenuti nel mondo degli orologi Viseroy. Viseroy è un marchio di orologi spagnolo fondato nel 1951, che si è fatto strada nel mondo degli orologi grazie alla sua attenzione al design moderno e alla tecnologia avanzata. Il marchio produce una vasta gamma di orologi per uomo e donna, tutti caratterizzati dalla qualità dei materiali utilizzati e dal design elegante e funzionale. Ogni orologio Viseroy è realizzato con materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, il titanio e il vetro zaffiro, che garantiscono la durata e la resistenza dell'orologio. Grazie alla qualità artigianale della produzione, gli orologi Viseroy sono in grado di resistere a qualsiasi condizione, dal campo da tennis alla sala riunioni. La vasta gamma di orologi proposta da Viseroy comprende modelli sportivi, orologi da dress e orologi da immersione. Viseroy è un marchio che sta al passo coi tempi e con le nuove tecnologie, infatti, ha anche prodotto una collezione di orologi digitali. Questi orologi presentano molteplici funzionalità, dalla misurazione del battito cardiaco alla modalità GPS per attività in outdoor. Inoltre, il marchio Viseroy ha collaborato con diverse celebrità e sportivi di alto livello per creare orologi esclusivi e di edizione limitata. Tra questi, il pilota di Formula 1 Fernando Alonso e il tennista Rafael Nadal hanno contribuito a consolidare la reputazione del marchio come sinonimo di stile e innovazione.